Caricca la porta! Non di qua! Eddie! I nostri zaini! Ancora gli zaini! In verità! Ancora gli zaini! Ok, vai! Muoviamoci! Ellie, ci sei? Sì, sono dietro di te! Continua a correre! Stai indietro! Ok! Forza! Su per le scale! L'impalcatura! È la nostra via d'uscita! Infetti! Ce li abbiamo anche dietro! Di qua! Vai, 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 vai! Si stanno avvicinando! Seguimi! Ellie! Sto bene, sto bene! Non ti fermare, tu! Guarda, una finestra aperta! Andiamo! Siamo quasi fuori! La mano! Che aiuto! Abri la mano! Abri! No! Lassami! Credo fosse l'ultimo. Ellie, è lì il tuo braccio. No, 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 no. No, 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 no. Tranquillo. L'ho fatto altre volte. Sono espertissima. Quasi. Non ti agitare. Non ti agitare. Cazzo! 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 Se vuoi, là c'è altra roba da spaccare. Che facciamo adesso? Io dico che abbiamo due opzioni. Opzione 1. Prendiamo la via più facile. È rapida e indolore. Ma a me non piace granché. due. Lottiamo. Lottare per cosa? Ci trasformeremo comunque in due mostri. Avremmo dovuto morire in mille modi prima d'ora. e potremmo farlo in mille altri prima di domani. Ma combattiamo. Per ogni secondo che ci resta da passare insieme. Che siano due minuti. O due giorni. Non ci arrendiamo. Io non voglio arrendermi. Che facciamo? Aspettiamo e basta. Possiamo... rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Non c'è l'opzione 3. Mi dispiace. Forza. So, andare con qui. Andiamoci da qui. Andiamoci da qui. Oh... 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 Oh. Oh... Oh... Oh...